Cresce l'impresa a conduzione straniera in Toscana che si conferma la prima regione in Italia. Più 26% negli ultimi 5 anni, il 3 e 4% in più nel solo 2016. Lo rileva Union Camere Toscana nell'ultimo report realizzato sulla base delle informazioni disponibili nel registro delle imprese delle Camere di Commercio. Cina, Romania ma anche Albania e Marocco, le comunità imprenditoriali più numerose. Forte la concentrazione territoriale su Firenze e Prato, quasi la metà 26.000, Arezzo è comunque nel podio. Un'impresa su 10 è straniera per l'esattezza il 10,3% del totale, 3.902 su un complessivo di 37.385 aziende. È un settore che continua ad espandersi. Le iscrizioni nel 2016 sono infatti 431 su 2.144, quindi con una percentuale del 21%, quasi doppia rispetto alla proporzione media del fenomeno. La vivacità imprenditoriale delle comunità straniere presenti sul territorio regionale, commenta il presidente di Union Camere Toscana, Andrea Sereni, ha consentito di controbilanciare il calo generalizzato delle imprese a conduzione italiana che si è registrato nel corso degli ultimi anni, confermando come si tratti di una risorsa preziosa per l'economia dei nostri territori.